A distanza di poco tempo dalla morte di Angelo Colossimo lo vogliamo ricordare intestandogli la tribuna dello stadio di Soveria Mannelli e fa piacere ricordarlo perché lui era un uomo appassionato sia sul lavoro sia sul mondo del pallone quindi quando uno mette la passione alle cose le cose riescono e possiamo dire che Angelo nella sua vita è riuscito oltre che sul lavoro nel calcio nella famiglia quindi siamo contenti di dedicare e intitolare questa tribuna al nostro caro Angelo e gli auguriamo che sia nel paradiso anche un Angelo. Grazie Grazie